Lo sai, uccellini, che ho conosciuto un carabiniere. La funzione di un carabiniere è quella di la nostra sicurezza pubblica. Loro evitano che gli uccelli si comportano in modo giusto. Verso altri, sia in strada, sia in casa, loro ci proteggono. Uccellino chiede, chiede, cosa fanno se uno ruba? Oh no, mi ha rubato il maglione nero. Chiamo i carabinieri che numero. Chi ha chiamato? Si chiama 118 risponde, un carabiniere. Scusa, come si vestono? Loro hanno uniforme. Ok, e capellino. Ehi, carabiniera! Sì? Alcuni azzurro chiaro e altri color nero. Quando ti fermo, quando ti fermano la strada, ti devi fermare. Cosa chiedono? Chiedo, chiedono, mi chiedono. Ti chiedo. Non ti chiedono la tua carta? Identità. Fre, fre, frena. Dove ti mostri chi sei? Se qualcuno ti fa male, chiami i carabinieri. Ti faccio vedere io. Ciao, 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 ciao. Ora prendiamo la macchina. Ora mettiamo in prigione. Ok. Finalmente. Ciao, alla. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti.